Oggi, alle prime luci dell'alba, gli uomini della squadra mobile della questura di Caltanissetta hanno eseguito sette misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale Nisseno su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica Locale nei confronti di altrettante persone indiziate per 13 furti commessi durante il lockdown. L'area furtiva andava da gioielli d'oro, trafugati nelle abitazioni ma anche computer, trafugate in istituti scolastici che servivano per la didattica a distanza degli alunni e ancora monetine dei distributori e persino gli oggetti sacri rubati nella chiesa di Sant'Agata. Tra i capi d'accusa anche la ricettazione. A quattro degli indagati è stata applicata la misura della custodia in carcere, ad uno gli arresti domiciliari e ad altri due l'obbligo di presentarsi quotidianamente in questura. Tra gli arrestati due donne, una avrebbe fatto da palo durante alcuni furti, l'altra avrebbe nascosto parte della refurtiva. Durante le indagini sono state numerose le operazioni della polizia che hanno permesso di neutralizzare i propositi criminosi degli indagati e in alcune occasioni si è proceduto al loro arresto in flagranza di reato in relazione a reati diversi da quelli contestati. Utili le immagini degli impianti di videosorveglianza. Tra i furti commessi, quello alla chiesa di Sant'Agata è uno dei più gravi visti i danni ad oggetti sacri, tra cui scrigni con oggetti di valore. A giorni saranno effettuati dal GIP gli interrogatori di garanzia.